Ho sempre voluto essere un bravo poliziotto. Talvolta il bene e il male. Mi mancano 10.000 dollari. Hanno confini sfumati. Non era tutto in regola. Non dire niente. Un piccolo errore al momento sbagliato e cadiamo tutti nel barco. A terra, subito! Abbassi l'arma, lei è in arresto. Al fatto che la sua collaborazione porti a delle condanne, le garantiamo piena immunità. C'è una salva! Nella mia squadra! Jennifer Lopez, Ray Liotta, Shades of Blue. Prima TV Canale 5 da mercoledì 5 luglio.